Salve a tutti ragazzi e bentornati al LoL Club Io sono Padman e siamo qui con una nuova parte di The Code Il codice Siamo alla trentesima stanza Ho leggermente barato ma comunque la mappa è questa C'è anche una porta chiusa end, fine Però noi andiamo in last Vediamo Ciao Dannato Astorica, astorica Quindi Non posso sopravvivere What? Primo il bottone, primo il bottone, primo il bottone Sì, lo sa? Quindi Ah, vuoi vedere che? Ui, terra addirittura No è Ma spawno qui ma Ah questo non me lo permetterete vero? Oh e quindi? Signori, questa è la mia armatura Vediamo cosa faccio fare con la mia armatura Forse non è previsto che io possa vincere Devo sicuramente riuscire ad arrivare a quel bottone Non ne ho idea Non ho idea di cosa è successo Non ne ho idea Non posso morire ciccio C'ho l'armatura più che potenziata Però Eh signori Spiegatemi cosa dovevo fare Perché io non ne ho idea 35792 35792 392 Check in Ehm Doveva comparire un nome da qualche parte Ma non ho idea Opening ending È chiuso Eccolo qua Eccolo qua Thanks for playing Grazie, bello Ehm Insusati 13 Che buttutissimo bastardo L'ha cantati Che bastardo Questa è bastardata eh Ma è infinito sto coso? Non è che mi stai teletrasportando sempre all'indietro Presumo di no Quindi Ovviamente Come tutte le mappe che si rispetti L'hai fatto apposta mi sa Tanto c'ho feather falling Oh 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 Ho finito Questa è la È la fine Nella fine Questa non ne ho idea di cos'è Ma non ci tengo a provarlo Ehm Signori Questa era la fine Adesso arrivo Allo spawn E Come ogni mappa che si rispetti Si distrugge Sono quasi Ecco Soffocato Ovviamente Ehm Signori Sono curioso di vedere Di vedere un po' Ehm I marchigegni Di come ha fatto Ok Quindi se io Che cos'è questo? NBT Edit Non ho i permessi Bastardo Ma blocca tutto Signori Questo È il codice Qui genero all'infinito Decode Quanti ne ho? Questo ne produce all'infinito E È un È un Genio E questi Sono quelli che ho Cancellato Ehm Niente Questo è tutto Questo è Decode Tutto questo Ah ecco Come facevo a capire Se la risposta Era giusta o meno Qui dentro Lo paragonava A cosa? Ciccio Voglio capire Come hai fatto Sei un fottuto Genio Give Ah sono Uno nove Uno sette Questo è un card Con dispensa Perché? Perché? Comunque Questo è il card Con Spawner Ehm Penso che la mappa La finirò qua Questo cos'è? Give 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 Ma che cavolo? Sono in creative mode Ah non ho i permessi per i codici C'hai ragione Ehm Comunque signori Questa è la mappa Non ho idea di cosa c'è qua dentro Ah questa è l'arena Ecco Spiegatemi un po' L'arena Se l'avete capita Non è questa l'arena Ma perché? Ma perché? Non lo so Ehm Mappa bellissima Complimenti Ehm Niente 13 aiuti L'ho finita in una tipo ventina di parti No almeno Devo ancora editarle Comunque vedrà Ehm Niente Io vi ringrazio per avermi seguito Per tutti i commenti che mi avrete lasciato Che mi lascerete Per tutti gli iscritti E come sempre Io vi saluto Vi rimando al prossimo Ciao bello Vi rimando al prossimo video O prossima mappa Abbiamo già in mente cosa fare Una bella mappa Una gran bella mappa Ehm Con lo scoreboard Ma lo scoreboard lo metterò io Dovrò metterlo io Non posso uccidere Sono in adventure mode Anche così Non posso fare niente Non posso fare niente Ma non ho detto Che non posso sparare i frecce Comunque Mentre io Cerco di assassinare questo Gli avvono Invulnerabilità Va bene Io vi saluto E ci vediamo Alla prossima Custom Map Qui da Padman è tutto Questa freccia Non l'ho lanciata io Forse si Qui da Padman è tutto Un saluto dall'Owl Club E Ciao a tutti Non si rompe? Anche in adventure mode Posso rompere? Invece questo no Jeb Metti a posto questo Ciao